Ben ritrovati amici rossoneri, i video che ci piacciono di più, quelli che aspettiamo con ansia. Ben ritrovati, iscrivetevi qui sotto, c'è la bandierina rossonera, mi raccomando, lasciate il like se siete contenti per questa notizia e possiamo di fatto dare l'ufficialità, diciamo così, anche se manca la solennità del comunicato ufficiale. Ma attenzione perché in questo video non vi parlo soltanto di questa operazione sulla quale mettiamo la spunta verde, ma anche di altre novità di giornata, alcune abbastanza clamorose che dobbiamo approfondire insieme. È fatta, è fatta, l'operazione Milan-Florenzi è fatta, alle condizioni del Milan, che quindi mantiene un diritto di riscattare Florenzi tra un anno dopo aver capito come andrà in questa stagione. Prestito oneroso più diritto, con la carta di identità di Florenzi che comunque porta esperienza e anche qualche anno davanti in cui può continuare a rendere bene come ha fatto nell'ultima stagione perché ha 30 anni, aveva e ha un contatto di scadenza con la Roma nel 2023, giocatore ad all'estrema duttività che ha due gol in 45 partite con la nazionale italiana, 25 reti nazionali in Serie A, 1 in Champions League, 2 in Ligan, in totale 446 partite nella sua carriera, esperienza stratosferica, 72 gol e 35 assist. Il Milan lo prende come alternativa a Calabria, ma all'occorrenza può giocare davanti, può giocare un po' più al centro, può giocare anche alla sinistra, e quindi grande, estrema duttività, Florenzi non vedeva l'ora, era lì in attesa, appena ha saputo del Milan, ha detto al Siviglia grazie e rivederci in bocca al lupo e dunque ha dato priorità al Milan. Lui è anche pronto per partire e raggiungere Milano appena gli danno il via libera, potrebbe essere stasera o domani, comunque l'operazione è fatta e a questo punto possiamo dire che ragionando insieme a voce alta il giocatore sarà abile e ruolabile per la gara di lunedì prossimo contro la Sampdoria, esordio stagionale di quella che deve essere la stagione l'anno scorso dicevo della rinascita, quest'anno dico della consacrazione ad altissimi livelli e speriamo della vittoria. Bisogna vincere, bisogna vincere io in mente di cosa, però ecco, vediamo poi a regime che tipo di squadra sarà, Florenzi che ragazzi non deve essere sottovalutato perché perché l'operazione dal punto di vista economico è pressoché irrisoria portiamo un giocatore di esperienza, qualcuno dice perché la Roma non l'ha tenuto la Roma ha fatto questa scelta, ormai aveva rotto con l'ambiente da un paio d'anni tant'è che girovagava tra Spagna e Francia Molino voleva puntare su di lui, avete visto, alla fine pronti via il nazionale è la prima partita europea, Florenzi gioca poi è vero che si è fatto male, sono andato a vedere però lo score della scorsa stagione, poi adesso andiamo sulle altre notizie il bilancio degli infortuni l'anno scorso è stato decisamente accettabile perché l'anno scorso lui nel 2021 ha fatto sostanzialmente un problema agli adduttori due settimane fuori poi altri cinque giorni, un affaticamento muscolare tre giorni e poi un infortunio al polpaccio appunto quello della nazionale che l'ha tenuto fuori tre settimane quindi ci sta perfettamente, va benissimo così ha avuto i problemi quando si era fatto il crociato prima qualche anno prima appunto, crociato nel 16-17-17-18 però è rientrato e sta bene grande professionalità, è uno che ovunque va è attaccato alla maglia, è attaccato al gruppo è uno che fa molto gruppo e può essere davvero una presenza importante nel nostro spogliatoio quando leggevo sacchi oggi che diceva il Milan non ha esperienza beh parliamone chi era in difesa mi sembra uno che ha esperienza Florenzi è uno che ha esperienza Ibrahimovic è uno che ha esperienza Giroud è uno che ha esperienza c'è nel frattempo qualcun altro che ha esperienza la sta accumulando, sta diventando leader come che sì lo stesso Romagnoli comunque che è capitano del Milan da qualche anno un po' di esperienza l'ha accumulata e potrebbe arrivare anche qualche profilo un po' più esperto del quale parleremo perché è quasi pronto il video del possibile nuovo 11 della prossima stagione con gli acquisti fatti e quelli che devono essere fatti dunque Florenzi in arrivo mettiamo la spunta verde ed è il primo di vediamo 3-5 acquisti che il Milan farà da qui alla fine della stagione alla fine del calcio mercato e il primo è fatto con Florenzi che possiamo considerare di fatto un giocatore del Milan arriverà appunto nelle prossime ore forse già stasera a Milano poi al solito Iter, visite mediche e primo blitz a Milanello per fare le conoscenze con i compagni e con il nuovo gruppo siamo appunto ripeto alla fumata bianca ormai fatta e lo diamo per fatto in maniera indiscutibile dopodiché dalla Spagna questa mattina raccontavano di una possibilità Juve o Milan per Pjanic io sapevo che Ramadani il suo procuratore aveva proposto al Milan ma anche alla seconda squadra di Milano e alla Juventus un mesetto fa e che in quel momento Madani era piuttosto freddo loro riportano che c'è ancora il Milan sul giocatore o la Juventus io rimango un po' freddino come lo era Maldini un mese fa anche se magari sono cambiate le cose però non riesco a capire come possa arrivare un giocatore di questo tipo non tanto da un punto di vista economico perché il Barcellona è una situazione finanziaria terribile deve dare, regalare, risparmiare tu lo potresti prendere avere l'ingaggio magari in parte pagato metterci dei milioncini però poi a quel punto si alterna con Ben Asser non lo so non mi sembra il profilo giusto perché poi alla fine toglierebbe spazio a Ben Asser o non troverebbe spazio a lui rimango molto scettico però vi riporto quello che veniva detto oggi in Spagna per quanto Berardi è circolata nelle ultime ore in descrizione del Milan che è pronto a fare una nuova offerta monitoriamo io vi ho detto per primi qui sul nostro canale tempo fa grazie al nostro Filippo che Berardi era ed è il preferito di Misteri Pioli per la fascia destra però vi ho sempre detto che aprire un dialogo con il Sassuolo sarebbe stato molto complicato perché il Sassuolo chiede cifre stratosferiche a meno di formule particolari mi sembra improbabile anche se i bookmakers hanno fatto calare le quote di Berardi quindi più calano le quote più un evento secondo i bookmakers diventa probabile arrivando appunto oggi a togliere addirittura le quote come se non fosse più appunto conveniente giocarci o aprire delle giocate riportiamo anche questa curiosità anche qui però come pianici io rimango scettico in questo caso appunto di vista economico lì per una questione di logica e per di equilibri appunto in mezzo al campo vediamo che cosa succede il prossimo colpo potrebbe essere Adli e speriamo appunto possa essere già nelle prossime ore con il Milan che come vi ho detto negli ultimi 15 giorni fa tutto quello che deve fare piano piano facciamo tutto e il meglio deve ancora venire il meglio sta arrivando ragazzi è un gerundio il meglio sta arrivando che cosa ne pensate di Florenzi scrivetemelo qui sotto come possiamo chiamare Florenzi la trottola la trottola sembra uno il motorino scrivetemi qui sotto nei commenti un vostro suggerimento Simone qui dietro la regia mi dice il super terzino il super terzino un po' poco originale Simo lavoriamoci iscrivetevi qui o qui non mi ricordo dopo verifico lasciate like scrivete il vostro soprannome il vostro commento su Florenzi benvenuto al Milan possiamo dirlo bene così e adesso facciamo anche il resto un abbraccio tanti like per Alessandro Florenzi che diventa un giocatore del Milan ciao